Per me è prioritariamente importante il lavoro per i giovani. Ci sono padri di famiglia disoccupati, maggior parte dei giovani che sono pure disoccupati. Io cercherò in tutti i modi di creare lavoro per i giovani. Soprattutto questa è la priorità mia assoluta se sarò eletto sindaco. Un'altra importante questione è relativa all'ospedale di Barcellona. È una questione che mi sta profondamente a cuore. Io mi batterò perché il reparto di ginecologia, ostetricia e ginecologia, ritorni a Barcellona. Pensate che in una città come Barcellona non è più possibile nascere. I nostri nipoti, i nostri figli non possono più nascere in questa bella città. È assolutamente impossibile. È bene che venga effettuato questo reparto di rianimazione. È un fatto importante perché se succede un incidente stradale o viene un infartuato bisogna andare necessariamente all'ospedale di Milazzo o è possibile che questo reparto nasca qui su Barcellona con effetto immediato. Io penso che questo reparto di rianimazione deve essere realizzato a Barcellona. Nel suo programma c'è anche tanta attenzione al patrimonio artistico, culturale e architettonico della città. Ci sono tante bellezze naturali, ci sono le varie chiese e quindi è un qualche cosa che noi dobbiamo sfruttare dal punto di vista turistico. I vari comuni della zona devono consorziarsi.